cicloturisti e cicloturisti buon salve benvenuti per ben ritrovati sul mio canale oppure su bike channel se state vedendo questa chiacchierata di unconventional travelers in televisione sui canali di channel oggi abbiamo un appuntamento un po particolare perché appunto qua in questo spazio ospitiamo viaggiatori non convenzionali e quindi abbiamo due ospiti che viaggiano in bicicletta in una maniera del tutto nuova e particolare che sono qua di fianco a me luca e giulia da verona ciao ragazzi ciao 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 allora a spiegatemi un po chi siete e che cosa state facendo perché voi siete in viaggio ormai da parecchi giorni è un viaggio lunghino però con uno scopo nobile e bellissimo che adesso mi avete raccontato quindi fateci sapere di più insomma di che cosa si tratta karma on the road allora mi chiamo luca ho 32 anni e nel 2016 ho avuto grave incidente stradale in moto dopo 41 interventi l'ultimo che ha fatto l'amputazione della gamba sinistra sono ritornato in moto e sono ritornato a viaggiare questo incidente ci ha sensibilizzato molto sulla tematica di chi vive ad un'amputazione e quindi abbiamo capito che avere o non avere una protesi ti permette di fare molto o molto poco questo ha fatto sì che ci venisse un'idea di nome carmon the road sì in effetti questo è stato un po il punto di inizio di tutta la nostra avventura c'è sempre piaciuto viaggiare c'è sempre piaciuto esplorare posti nuovi conoscere nuove culture quando poi ti capita una cosa impattante come un incidente con delle conseguenze così così gravi capisci che ti piacerebbe aggiungere qualcosa di più al al viaggio pure semplice che siamo sensibilizzati molto sul l'ambito dell'amputazione perché qualcosa che lui ha vissuto anche molto da vicino e abbiamo scovato su internet un'associazione inglese che si chiama l'ex for africa li abbiamo contattati abbiamo deciso di fare per loro una raccolta fondi con un viaggio in motocicletta con destinazione dakar per via del covid poi ci siamo dovuti fermare al confine con la mauritania la raccolta fondi però è andata molto bene e ha permesso all'ex for africa di spedire 206 protesi usate un grande successo un grande viaggio anche se purtroppo appunto per il covi non è non è andato a termine però avete già iniziato a fare qualcosa di interessante che ha riscosso successo per comunque raccogliere un certo numero di di protesi è qualcosa di bellissimo voi tra l'altro mi dicevate prima che siete rimasti contentissimi da sapere che questa associazione poi le ha portate effettivamente è riuscita a dare una seconda vita possiamo dire a chi aspettava una protesi appunto in paesi un po più più sfortunati come siete entrati in contatto con questa associazione e appunto com'è andato un po' tutto lo sviluppo del progetto è stato è stata una parte molto molto interessante appunto noi li abbiamo scovati su internet proprio perché cercavamo qualcuno a cui appoggiarti all'inizio perché non eravamo noi un'associazione quindi il viaggio dell'anno scorso l'abbiamo fatto interamente dedicato dedicato loro noi da privati semplicemente quando abbiamo visto le foto dei ragazzi e delle persone che hanno ricevuto delle protesi grazie appunto a questa nostra iniziativa abbiamo capito che quella era la strada giusta per noi abbiamo aperto noi un'associazione che appunto abbiamo chiamato Carmo on the Road che racchiude un po' le nostre essenze io sono quella un po' più meditativa un po' più spirituale di noi due e quindi rappresento forse un po' di più il concetto di karma ok lui è quello più on the road quello un po' più che poi che poi pedala un po' più pratico esatto è quello più pratico diciamo che poi ci siamo molto anche influenzati a vicenda quindi ci equilibria molto questo questo concetto e ci piace definire Carmo on the Road come la semplice filosofia di seminare del bene lungo la strada bello questo però poi effettivamente lui è quello che lo fa sulla in realtà non lo fate entrambi sulla strada cioè nel senso allora diciamo che te anche prima mi raccontavi Luca e adesso ci racconterai come hai scoperto la bici perché tu eri un appassionato di moto ma effettivamente poi sulla strada ci andate entrambi e poi entriamo anche un po' più nella parte di logistica e di organizzazione come è nata l'idea di utilizzare la bicicletta perché appunto voi avete un'altra passione quella della moto che coltivavate entrambi e come come è nato di fatto il progetto di questo viaggio allora questo è sempre un tema molto carino da raccontare perché quando abbiamo ricevuto le foto delle protesi che sono arrivate alle persone nello scorso viaggio veramente abbiamo capito che volevamo continuare su questa strada il progetto di quest'anno nasce dopo 8 minuti di biciclette proprio non andavo in bici però diciamo che l'idea subito il lampo è venuto dopo 8 minuti di biciclette e l'idea di mantenere il concetto di due ruote all'interno dei nostri viaggi era una cosa che ci piaceva molto il viaggio in bici effettivamente è diverso da quello in moto ma a livello di due ruote significa solo libertà la libertà che ti possono dare due ruote è una cosa che solo le due ruote possono fare ok e quindi così è cambiato hai tolto il motore il motore adesso sono io curiosità oltre alla cicletta è dovuto fare un allenamento particolare per questo viaggio questo può essere magari interessante per qualcuno che anche lui si trova a dover convivere con una protesi ma diciamo qual è la tua esperienza di bici utilizzando la protesi non solo in viaggio perché appunto tu ti sarai allenato prima di partire no allora questa è una cosa molto comune è da cicloviaggiatore allora diciamo che sono partito questo viaggio con circa 400 chilometri all'attivo in bicicletta va bene dai niente più o meno fatti con la mountain bike perché al tempo avevo una mountain bike e poi cambiata per prendere una bici un attimino più idonea per questo viaggio però insomma diciamo che è partito tutto così no proviamo a fare una cosa un'esperienza nuova noi siamo abbastanza bravi a buttarci in esperienze che non che non conosciamo questo perché l'esperienza che abbiamo avuto dell'incidente ci ha dovuto mettere in situazioni che non avevamo mai affrontato e di conseguenza un po questa cosa si è radicata in noi noi provarci comunque quindi abbiamo detto perché no e se io non ero un ciclista e non lo sono ancora perché non mi piace identificarmi in qualcosa lei non era quella che non è camperista non era camperista questa è una cosa bellissima tra l'altro 400 chilometri nelle gambe prima di partire in bici e chilometri zero nel camper prima di partire è arrivato l'avevamo preso un paio di settimane prima ci avrò fatto 200 chilometri per sbaglio per provare un attimo giusto a capire come come funziona girare e basta quindi anche esatto cioè organizzarsi per una cosa nuova e una cosa nuova in due mesi di viaggio è stato facile o avete avuto no facile è una parola grossa però erano le cose che ci servivano per questo viaggio lui aveva deciso di fare questa cosa in bici si adattava bene al progetto di girare l'italia si adattava bene al fatto che non si può andare all'estero per via della situazione covid si adattava bene al fatto che abbiamo deciso di riciclare protesi in italia cosa che finora non è mai stata fatta e il camper era perfetto come mezzo di supporto dove stivare le protesi quindi era tutto totalmente perfetto che abbiamo detto e qua lui non ha mai pedalato non ha mai guidato il camper qualcuno dovrà fare quindi esatto nessuno ha mai raccolto protesi in italia tutto torna perché tra l'altro voi ragazzi avete detto prima una cosa che secondo me è molto bella e che io apprezzo molto al ciclo viaggiatore anch'io non sono un ciclista mi piace girare in bicicletta il vostro scopo del viaggio non era mettere chilometri nelle gambe giusto ma era qualcosa di secondo me molto più bello e molto più utile tu prima Luca me l'hai introdotto un po certo la bici per me è stato solo il mezzo con cui ho deciso di affrontare questo viaggio ma lo scopo finale del viaggio era quello di incontrare persone la bici è stata è stato solo un mezzo con cui ho deciso di fare questo viaggio ma lo scopo ultimo era sicuramente quello di incontrare persone amputate condividere informazioni condividere esperienze e avere appunto un confronto perché pensiamo davvero che sia importante e infatti abbiamo avuto molti modi che molti termini di confronto con persone che hanno vissuto un'amputazione c'è chi l'ha vissuta per il diabete per una malattia per una malformazione per un incidente quindi in realtà molte persone la vivono in maniera diversa e questo è stato molto interessante molto istruttivo perché siamo riusciti un attimino a oltre che a condividere la nostra esperienza anche a farci un'idea più globale di come una persona possa reagire a un'amputazione che ovviamente ognuno reagisce in modo suo io ho avuto una reazione se si può definire aggressiva in termini di ho fatto questo incidente ho pensato di aver avuto una seconda possibilità dalla vita e ho deciso in maniera aggressiva di buttarmici dentro a capofitto e quindi mettermi alla prova a fare viaggi e esperienze di questo tipo c'è anche chi la vive in maniera più più passiva non che ci sia un modo giusto o sbagliato semplicemente abbiamo avuto modo di confrontarci con altre persone che hanno vissuto comunque una situazione paradossalmente simile a quello che ho vissuto in termini di disabilità. Tra tutte le persone che avete incontrato in questo viaggio c'è qualcosa che ti ha portato c'è qualcosa che ricordi o qualcuno o qualche incontro che ricordi in particolare perché io immagino che io immagino che nel senso tu sei anche un po' motivi certe persone ci sta perché comunque hai fatto una cosa grande andando ad incontrare cioè pedalando per tutta l'Italia comunque qualcuno che hai incontrato puoi motivare ma c'è qualcuno che invece ha motivato te? Assolutamente gli incontri sono sincero me li ricordo tutti perché alla fine l'Italia è un posto bellissimo e ci saranno sicuramente dei panorami o delle cattedrali che mi resteranno nella testa però le persone che abbiamo incontrato mi resteranno nel cuore e su questo ne sono sicuro ci sono state molte persone che in realtà mi hanno motivato perché ognuno a modo suo ha un modo di reagire e di conseguenza se si sta un attimino magari ad osservare chiunque può insegnarti qualcosa io sono di questa idea certo non vuole essere una gara non vuole essere una cosa a chi fa un'iniziativa più grande una cosa più difficile io in primis non volevo mettermi in competizione con questo tour con questa cosa in Italia o in questo giro in bici era una competizione solo disclusivamente con me stesso per poter dire ce la posso fare e questo trovo che sia una cosa molto molto importante perché la consapevolezza di sapercela fare ad affrontare una determinata situazione ti porta a poter affrontare le cose in maniera diversa come ad esempio la paura dell'ignoto un viaggio che non ha mai fatto ma se consapevolmente pensi di potersela fare diventa tutto molto più facile da inquadrare e da affrontare e quindi credo che il senso di questo viaggio di questa mia sfida presa solo come sfida sia stato questo quante persone avete incontrato più o meno? cioè perché sono tante, 80 protesi fino ad oggi a Milano voi ne avevate previste 40? sì la metà la metà e poi sono comparse un po' per il passaparola un po' per diciamo immagino che poi la gente vi contattava perché comunque seguendo i social sapeva più o meno dove eravate esatto e quindi poi Giulia si occupava un po' della parte logistica anche di organizzazione dell'itinerario certo ma soprattutto perché intanto che lui pedala qualcuno deve rispondere alle persone esatto lavoro di risposta alle mail esatto quindi la maggior parte delle volte quando io partivo con il camper lui partiva in bicicletta e magari andavo a fare la spesa poi c'è ovviamente da occuparsi della parte di carichi e scarichi del camper e poi appunto una volta arrivata alla tappa successiva mi occupavo di rispondere alle mail e di mettermi d'accordo con le persone che avevano delle protesi da donare c'era chi aveva delle protesi da donare chi aveva subito un'amputazione e voleva semplicemente conoscere me e Luca e anche chi voleva offrirci la cena, bere un caffè quindi è stata veramente un'esperienza di umanità e inclusione e sostegno cioè è stata veramente una bellissima esperienza cioè soprattutto per voi mi viene da dire avete preso tanto da questo viaggio e questo è una cosa che abbiamo capito con Car on the road nel senso il concetto di fare del bene ti mette nella condizione di riceverne tanto e questo è una cosa che non possiamo assolutamente dire di non poter notare perché il sostegno e le persone che ci sostengono che ci vogliono bene che ci hanno accolto anche in casa loro durante questo viaggio sono state tantissime non siamo riusciti purtroppo a incontrare tutti perché ci hanno scritto veramente in parecchi però diciamo che quando abbiamo potuto abbiamo deviato per andare a trovare delle persone con cui avere un confronto e questa è stata la parte sicuramente più bella del viaggio che ci ha arricchito di più e poi magari Giulia mi dici qualche trucchetto su come organizzavi l'itinerale cioè nel senso tu prima mi hai parlato prima che parlavamo utilizzavate delle applicazioni comunque anche il calcolo dei chilometri del dislivello perché comunque anche io ho viaggiato in Italia so che per la bici a volte in alcune zone è un po' complesso non solo per la bici anche per il camper giusto? esatto questo è stato un tema che all'inizio non eravamo sicuri di come affrontare proprio perché lui non era un ciclista io non ero camperista quindi è stato all'inizio tutto un po' improvvisato ecco in base al meteo in base appunto al dislivello che c'era da affrontare in base ai ritiri protesi che dovevamo organizzare si creavano le tappe quindi in base a tutti questi parametri a volte mi capitava di proporre a Luca che ne dici ti faccio fare 80 km domani li facciamo? sì va bene oppure mi dice ah io ne vorrei fare 90 no sono carico domani ne faccio 100 e dico no domani ne fai 70 perché dobbiamo andare da quella persona lì e quindi anche lui si è dovuto adattare sia in base appunto come si diceva alle aree di sosta siamo stati parecchie volte anche in libera però appunto anche il camper ha bisogno di fare il fornimento di acqua e carichi e scarichi la corrente la sera lui spesso monta i video e quindi ci si arriva la corrente quindi ci sono talmente tante cose da incastrare che insomma abbiamo cercato di fare il possibile è un lavoro di organizzazione cioè senza nulla togliere Luca che pedala comunque c'è tanto lavoro da parte anche di giù e dietro è un lavoro di coppia è un lavoro di squadra utilizzavate mi avete detto google maps comunque per navigare entrambi cioè quindi sia tu in bici che nel camper entrambi nel senso che appunto avendo dovuto fare così tante deviazioni dal programma originario anche se un vero programma non c'era non c'era c'era un'idea di itinerario ovviamente poi ci si trova che magari a metà giornata si è fatto un incontro di tiro protesi si deve finire la tappa in tal punto dove c'è l'area di sosta e quindi google maps portami là diciamo che era preso un po' così sì mi sono capitate strade che sono state piuttosto complesse non è stato un viaggio facile no c'è proprio non tutto su ciclabile tedesca diciamo così molto tosto questo purtroppo va detto nel senso che ci manca ancora una buona parte di ciclabile o comunque anche di concezione del ciclista sono dell'idea che ogni cosa si scopra quando la si vive come ho scoperto cosa vuol dire avere una mutazione dover rimparare a camminare per fare un esempio andare in bici quando sei dall'altra parte ti rendi conto che effettivamente la cultura in Italia verso la bici non è molto sviluppata questo comporta che ci sono strade che sono davvero pericolose a me è capitato di fare la 106 Ionica in Calabria che è stata davvero tosta è stato uno degli unici punti in cui ho avuto veramente paura dove però l'alternativa era passare per Silas Promonte e fare 5-6 mila metri di livello complessivo che in un viaggio di 3 mila e rotti chilometri poteva essere insomma un po' un casino quindi diciamo c'erano delle strade che erano obbligatorie quasi o comunque intelligentemente obbligatorie che però non erano a misura di ciclista per nulla e allora ti chiedo qual'era stata la più bella che hai fatto in tutto questo viaggio perché comunque hai fatto tanti chilometri se dovessi sceglierne una se dovessi sceglierne una e poi me la dice anche Giulia per il camper perché comunque anche dal camper c'è una bella prospettiva allora diciamo che ne ho fatte parecchie di belle sarò sincero è difficile metterle a podio anche perché essendo ancora in viaggio in questo momento devo ancora metabolizzare tutto sì perché in tutto questo non abbiamo detto che Luca deve arrivare a Verona beh da Milano è poco è pieno anche se abbiamo un po' di allungo da fare appunto per andare a ripirare delle altre protesi però se dovessi sceglierne una o magari una regione che ti ha sorpreso cioè che tu non pensavi e hai detto wow cioè che scoperta è difficile difficile allora la ciclabile dei trabocchi mi è piaciuta particolarmente ma la ciclovia pavese fatta ieri molto bella ancora su una via pavese sì sì bella benvenuto a casa molto bella quindi insomma ci sono state varie varie tappe che mi sono piaciute alcune anche semplicemente perché magari la parte della Toscana è una parte che io amo e vederla in questo periodo col foliage esatto te la sei goduta sì sì davvero bella quindi è davvero difficile dire cosa mi è piaciuto di più complicato davvero complicato allora continuiamo con le domande difficili andiamo sulla parte della bici quindi bici che bici ha usato abbiamo detto che non hai seguito un allenamento particolare infatti non eri hai allenato quanti chilometri facevi più o meno in media ogni giorno abbiamo detto un'ottantina circa come media sì come media sì tappa più lunga? tappa più lunga 126 una volta 126 beh buono 126 non male e hai utilizzato una bici della Decathlon sì una Trimann 540 però montando delle ruote più larghe montato delle vittorie da 35 ok o meglio non sono partito con quelle gomme lì sono partito con delle Schwab da 35 che però ho forato ad Arezzo in una discesa per cui ora che mi sono fermato poi ho anche lacerato il copertone il cino e ho dovuto cambiare non ho trovato un ricambio da 35 ok e ho dovuto montare un 28 28 con cui andavo come un caccia è stato bellissimo finché non siamo arrivati in Puglia finché non siamo arrivati in Puglia in cui ho forato sei volte infatti stavo per dire io ti ho seguito il viaggio hai fatto tante forature sì sei solo in Puglia sei solo in Puglia con il copertoncino da 28 che era uno stradale e alla sesta foratura ho settima in totale ho rimesso su appunto delle vittorie a 35 belle adventure e basta non ho più forato fino a ieri sulla ciclovia pavese dopo 2000 km no non ci credo dopo 2000 km ho forato ieri c'è qualcosa che cambieresti della tua bici magari questo può interessare ad un'altra persona che è amputata che magari vorrebbe iniziare a pedalare hai preso qualche accorgimento in particolare anche dal punto di vista di messa in sella parto dal problema che il mio braccio è un altro dei miei punti deboli perché anche se non si nota molto ma non ho la massima estensione dovuta dall'incidente questo ha comportato il dover rialzare il manubrio al massimo per non caricare troppo la schiena e quindi dover stravolgere un po' tutte le forme con cui si sta in sella a parte questo uso le scarpe con gli agganci con agganci MTB perché mi sento più sicuro nel senso che una volta che ho bloccato il piede devo solo pensare a spingere mentre ovviamente avendo una protesi avendo una sensibilità insomma che si sente qualcosa a livello di vibrazioni ma non è come non è come un piede non sapere bene dove era appoggiato il piede sulla sulla pedalina non mi piaceva non mi faceva sentire sicuro avrei pensato che io avrei pensato il contrario interessante questa cosa qua bloccato lì devi solo pensare a spingere invece se non fosse bloccato devi anche pensare che quando spingi devi anche tirare un po' indietro perché se no il piede ti scivola in avanti cosa che il tuo cervello fa in automatico quando hai una caviglia quando non ce l'hai devi solo pensare a spingere tu mi hai detto che hai anche fatto una visita biomeccanica ovviamente per metterti in sella sì 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 eravamo in Puglia perché un biomeccanico mosso con passione no scherzo ha visto ha visto del progetto no no ha visto del progetto ha detto mi ha chiesto se avesse avuto piacere ha detto assolutamente in realtà non sono state fatte molte modifiche da come avevo settato io la bicicletta se non sfalsare ancora di più le le tacchette delle delle scarpe perché comunque ho una gamba più corta di 3 cm la sinistra è comunque più corta di 3 cm siamo tutti asimmetrici quindi ci sta è un 3 cm però insomma è una cosa è tanto pensi che è dovuto un incidente sì sì ah ok sì sì di femore perché nell'incidente avevo perso 11 cm di femore e poi tramite un allungamento osseo non ho recuperati 8 quindi in piedi la protesi è più lunga quindi in piedi sono simmetrico pedalando ovviamente ho una gamba più corta dell'altra quindi ho dovuto sfalciare le tacchette comunque insomma non è una cosa ottimale però dai devo dire che se siamo riusciti a portarla a casa va bene sei quasi alle porte di casa non sei ancora arrivato non sono ancora arrivato ti ricordo sì va bene ma insomma dai diciamo che ne abbiamo ancora di camere Dario doveva andare a comprarle perché le consumano ne abbiamo ancora ok c'è qualcosa che magari dopo la tua esperienza ti sentiresti di consigliare a qualcuno che magari si approccia per la prima volta alla bicicletta ed è a una gamba amputata come la tua perché poi mi hai spiegato anche prima che ogni amputazione è diversa quindi tu consiglieresti qualcosa sia dal punto di vista magari della bicicletta sia dal punto di vista di come approcciarsi ho sempre pensato che la bicicletta fosse un ottimo movimento perché non è impattante sulle articolazioni questo ne consegue che anche dopo poco l'amputazione si può tornare in bici perché non va a caricare certi punti di carico che normalmente nella camminata o nella corsa avresti con una protesi quindi il mio consiglio è assolutamente provate ad andare in bicicletta perché rinforzare la muscolatura di un arto amputato che comunque tende sempre a sviluppare ipotrofia parecchia aiuta molto a stabilizzare la camminata quindi io sono per la bici in termini terapeutici in una maniera più assoluta qualcuno che si vuole approcciare dico sì viaggiate in bici perché io ho scoperto un mondo che non conoscevo e che mi ha appassionato moltissimo quindi comunque è una cosa che è fattibile a tutti appunto Luca ha detto che non ero un esperto assolutamente di ciclismo e sei riuscito a fare tutti questi chilometri piano piano io credo che sia un modus superandi come ho affrontato cinque anni dall'intervento step by step come si dice giorno dopo giorno operazione dopo operazione un viaggio così preso nel complesso è un casino cioè nel senso tutte le cose da organizzare le tappe da fare le cose che potrebbero andare storte viste nel complesso sono tante credo che le cose vadano fatte a tappe quindi una tappa al giorno 70-90 quello che è qualche giorno ci siamo riposati qualche giorno ci siamo presi per staccare e visitare un pochino perché comunque questo viaggio nasce per la questo progetto nasce per la nostra passione di viaggiare e quindi vogliamo sempre tenere unita questo filo conduttore del viaggio unito alla solidarietà e quindi qualche giorno ce lo siamo presi anche per visitare le bellezze che l'Italia ha da offrire ci servirebbero una decina d'anni per girarla tutta bene perché è impossibile abbiamo provato a fare al meglio che abbiamo potuto ok ragazzi allora quindi grazie di questa chiacchierata però io faccio una domanda sempre a tutti i viaggiatori in bicicletta e non che ospito qua nel mio spazio perché a me piace rubacchiare idee a me piace scoprire sempre cose che magari non sapevo ditemi due cose che fanno parte della vostra attrezzatura che non possono mancare durante una giornata del vostro viaggio comunque non potevano mancare all'interno del vostro viaggio una deve costare meno di 100 euro l'altra meno di 1 euro allora quella a meno di 1 euro poi in base alla regionalità il caffè perché senza il caffè non parte non ci vuole da nessuna parte e il caffè che al sud Italia soprattutto è stata un'emozione arrivare una caraffa d'acqua se vuoi giù arrivi pronto 80 centesimi caffè acqua aspetta meno di 100 in questo viaggio beh potrebbe essere il kit di attrezzi visto le volte che ho dovuto smontare i comertoni che ti servono anche per la gamba ecco bravo questa è una cosa interessante in tutto questo io con una brugola del 4 posso smontare mezza bici e mezza gamba ma va brugola del 4 normalissime almeno vabbè quelle degli attacchi e che servono per le regolazioni ok con una 4 sì 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 la mia brugola da 16 euro della beta del 4 che ho sempre con me davvero penso che sì ce l'ho dentro penso che sia dentro la borsa e no beh diciamo che al di là della bici ti serve proprio ti serve sì 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 quindi caffè e brugola del 4 poi con il resto tutto il resto lo posso a me piace questa domanda perché ognuno mi dice sempre una cosa diversa io aggiungo un'altra cosa che non costa niente ma per il camper è fondamentale la bolla ragazzi la bolla perché quando effettivamente se ci sono dei ciclisti che vorranno approcciarsi anche al mondo in camper e rimane in contatto con la natura come la parte del campeggio la tenda se avete un camper vi serve una bolla perché se non siete in bolla si dorme malissimo si dorme malissimo e quindi di conseguenza i cunei quindi ecco per lì e là perché se no è un disastro ok insomma diciamo che ne avete imparato durante questo viaggio sì sì anche perché come dicevamo abbiamo fatto anche tante esperienze in libera e di conseguenza non essendoci il campeggio intanto c'erano degli sliveri in quel camper che mettiamolo in bolla perché se no qua stiamo veramente i piedi cioè quindi un'esperienza di viaggio e di vita ragazzi bellissima assolutamente beh adesso approfittate per fare un po' di pubblicità dove vi possiamo seguire ovviamente quando uscirà questa chiacchierata il viaggio sarà già finito ma chissà che magari questi ragazzi a cui vi piace viaggiare non staranno già progettando qualcosa di nuovo ah volete dare qualche piccolo spoiler magari uh eh qua sono spoiler grossi uh qua sono spoiler grossi però beh quindi continuate a seguirli dove vi dobbiamo seguire per scoprire allora sì per adesso per adesso non possiamo fare grossi spoiler perché è ancora troppo presto ma se volete potete seguirci sui nostri canali sia su facebook instagram e youtube ci trovate come karma on the road e sicuramente anche sul nostro sito internet www.karmaontheroad.org e se qualcuno volesse diciamo sostenere la vostra causa o entrare in contatto con voi per perché apro e chiudo parentesi una cosa che non sapevo e non mi aspettavo è che in Italia non c'è un'associazione preposta alla raccolta giusto di di protesi ci vorrebbe quindi associazioni fatevi fatevi avanti per entrare in contatto con voi basta semplicemente scrivervi sì assolutamente cerchiamo di essere più veloci possibili a rispondere sul nostro sito web ci sono tutti i contatti nostri se avete protesi da donare mi raccomando fatecelo sapere che in qualche modo ci organizziamo anche se il viaggio è finito ma questo viaggio vuole essere solo un input per mettere un focus sul problema del riciclo delle protesi in Italia e che continueremo a portare avanti negli altri progetti insieme ad altri progetti chiamateli Luca prende parte in bici questo non lo so ci vuole qualche giorno però comunque arriva questo non lo so magari un giro in moto c'è un signore che ci ha contattato da Dobbiaco e gli ho detto oddio da Dobbiaco in bicicletta a novembre diventa un po' complicato sarebbe stato super avventuroso ma l'ho già fatta di andare a Dobbiaco però era luglio magari no quindi andremo a trovarlo il viaggio quindi non finisce è la cosa bella appunto anche di questo appuntamento anche a me c'è una traveler perché mi piace scoprire e vedere che insomma queste esperienze di vita poi continuano si trasformano in viaggio ma poi chissà come si evolveranno quindi andate a seguirli grazie Luca grazie Giulia grazie a voi vi ricordo che potete trovare la versione audio di questa chiacchierata anche su Spotify e su iTunes trovate i video i link in descrizione al video che trovate su YouTube trovate i miei social qua sotto in descrizione un grazie come al solito a tutti i fantastici Patreon che sostengono il canale e ragazzi ci vediamo al prossimo appuntamento ragazzi sempre più karma on the road insomma e complimenti ancora per quello che fate perché complimenti è veramente veramente bellissimo quindi non lo so più kudos per voi ciao ragazzi ciao 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 ciao